Le note di una giovanissima Le note di una giovanissima street band tra il Palazzo Comunale e il Palazzo Pretorio hanno trasformato Prato in capitale del Mediterraneo per l'edizione 2018 di Mediterraneo Downtown, il primo festival dedicato al mare ribattezzato Continente Liquido e promosso da Cospe Onlus, Comune di Prato e Regione Toscana. Il tutto tra insoliti segnali stradali che indicano le principali città del Mediterraneo, da Istanbul al Cairo, da Napoli a Prato, che per tre giorni è diventata il centro della manifestazione a cui ha preso parte anche l'assessore regionale all'immigrazione, Vittorio Bugli. Sul tavolo di due eventi in Palazzo Comunale i problemi della tratta dei migranti e dell'accoglienza che per i paesi affacciati sul Mediterraneo sono ormai questioni non più rimandabili. Non è ammissibile che non ci si fermi attentamente a parlare e a occuparci del Mediterraneo, insomma questa è una grande risorsa che noi abbiamo a confine nel nostro paese, la Toscana è una delle regioni più attaccate, più vicine al Mediterraneo. I paesi del Nord Africa possono essere non solo da analizzare in quelle che sembrano essere delle preoccupazioni, ma da analizzare anche per quelle che sono le grandi opportunità che può offrire il Nord Africa per il nostro paese e per la nostra regione. E quindi avere questa occasione a livello nazionale con personalità che vengono da tutta Italia ma anche da fuori e affrontare i temi principali che legano il nostro paese, il nostro continente al Mediterraneo credo sia un gesto di attenzione e di serietà con cui le istituzioni si pongono rispetto a questo sema. Per affrontare l'immigrazione nel Mediterraneo serve un cambio di prospettiva, ha detto Bugli, superare cioè il modello dei centri di accoglienza straordinaria, i CAS, che in Toscana copre 10.000 posti e dare spazio a quello dello SPRAR che però per adesso è residuale con la copertura di soli 2.000 posti perché i numeri, i tempi di attesa e i dati emersi dalle ricerche degli ultimi anni dimostrano che più che di emergenza si deve parlare di un fenomeno divenuto strutturale anche in Toscana. Il tema dell'accoglienza come è stato fatto negli ultimi anni per i richiedenti asilo è stato affrontato come un'emergenza, l'emergenza, il ministero degli interni, le prefetture, ma si tratta più di un'emergenza, queste sono persone che hanno da stare in queste strutture prima che gli venga riconosciuto o no, di essere un profugo, tre anni, quattro anni, qualche volta si parla di cinque anni, non sarebbe più il caso di inserire tutto questo sistema in un sistema che già esiste e che riguarda le persone, sistema gestito dai comuni, dalla regione, in cui si possono fare anche percorsi di inserimento guidati di queste persone, in cui queste persone devono imparare bene la lingua italiana, in cui queste persone devono fare delle attività che non li tengono tutto il giorno in queste strutture a passare così la giornata. Tra i problemi emersi e affrontati a Mediterraneo Downtown c'è quello dello sfruttamento del lavoro, non un caso che si ne sia parlato a Prato, dove il progetto Lavoro Sicuro della regione toscana ha portato a regolarizzare l'85% delle oltre 10.000 imprese controllate, e non un caso che proprio nel corso dell'evento sia stato firmato un protocollo tra Comune di Prato e Procura della Repubblica per creare uno sportello attraverso il quale i lavoratori sfruttati possono denunciare i loro aguzzini. È una delle modalità con la quale intendiamo porre un argine a fenomeni che nel nostro territorio sono abbastanza diffusi, ma che difficilmente vengano fuori. Quindi questo canale attraverso lo sportello dell'amministrazione, lo sportello dell'immigrazione, è una delle possibili modalità con le quali cercare di trovare un contatto con le vittime dei fenomeni di sfruttamento. In Toscana è attivo anche il progetto Satis, che tutela le vittime di tratta e sfruttamento, persone che, se nei dati statistici figurano come numeri, nella realtà si traducono in storie, come quelle raccontate nei tanti eventi del festival, tra convegni, eventi teatrali, musicali e mostre fotografiche a tema. Una tre giorni densa, che dopo l'edizione zero di due anni fa e la numero uno dell'anno scorso, ha catalizzato l'attenzione di cittadini, addetti ai lavori e istituzioni, mettendo al bando pregiudizi e raccontando la realtà del Mediterraneo. Le cose reali ci dicono che è vietato parlare di invasione. Per quello che riguarda i richiedenti asilo, siamo al 3 per mille della popolazione toscana. La regione di 3 milioni e 700 mila abitanti non può essere preoccupata di ospitare 12 mila richiedenti asilo, anzi meno perché in questi ultimi giorni sono diminuiti. Le cose reali ci dicono che negli ultimi anni, contrariamente a prima, siccome in questo paese purtroppo si può arrivare solo con il gommone, con il barcone, la popolazione residente, straniera, è aumentata di 5 mila unità nel 2016 rispetto al 2015, anno per il quale abbiamo i dati. E queste 5 mila unità sono sostanzialmente uguali al numero di bambini stranieri nati nel nostro territorio. E quindi si è interrotto quello che era stato negli anni precedenti, un flusso di persone che prendevano a residenza perché avevano un lavoro e perché venivano nei nostri territori a contribuire anche a una crescita economica che stiamo attenti, ci sono oggi dati Istat che ci parlano del crollo di nascita nel nostro paese, stiamo attenti che non possano essere utili e indispensabili anche per la crescita del paese. Numeri raccolti anche nel libro bianco sull'immigrazione, stilato dalla regione toscana, la cui presenza all'evento pratese è servita a ribadire la necessità di affrontare il tema dell'immigrazione in modo organico sui territori, in particolare su quelli in cui il fenomeno è maggiormente radicato, come nel caso di Prato, dove tante comunità diverse convivono. La presenza dell'assessore Bugli testimonia un aspetto, che la filiera interistituzionale che a Prato si snoda con il protocollo, ad esempio con la procura, riguarda però anche altre istituzioni tra cui la regione. La regione toscana e in particolare l'assessore Bugli dal 2015 è molto vicina alle comunità territoriali, ai comuni, la regione ha un ruolo importante non soltanto di impulso ma anche di strategia, di strategia politica innanzitutto. I messaggi che sono stati lanciati in questi anni sono messaggi che hanno aiutato molto a rasserenare anche il clima che vivevamo all'interno delle nostre comunità. Un clima di consapevolezza e voglia di conoscere ben percepibile a Mediterraneo Downtown nel corso del quale si è parlato anche di minori stranieri non accompagnati, demografie e salvaguardia dell'ambiente attraverso la raccolta di rifiuti in mare, tutte facce dello stesso mare che unisce Europa, Africa e Asia e che indicano per il futuro strade alternative a quelle già percorse. Io penso che l'altra strada possibile debba partire da togliere di mezzo quelle che sono le considerazioni che vengono da sentimenti, da preoccupazioni, da paure, da cose irrazionali e mettere al centro l'analisi, i contenuti, i dati e cioè le cose irrazionali. E l'interesse dei partecipanti a Mediterraneo Downtown di edizione in edizione è sempre più acceso con presenze in crescita non solo dalla Toscana ma anche da fuori regione. Abbiamo presenze in verità non solo da Prato e dintorni ma in verità anche dal resto d'Italia. Ci sono già l'anno scorso rispetto alle presenze che abbiamo avuto, abbiamo avuto molte presenze da fuori anche regione quindi dall'Emilia Romagna, da altre regioni e credo che continuerà questo trend anche quest'anno vedendo i primi incontri come si stanno svolgendo. Grazie 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 Grazie